Il web 3.0 ha il potenziale di cambiare l'internet per come lo abbiamo sempre conosciuto. Siete ancora in tempo per ottenere tutte quelle skill necessarie per ottenere un lavoro pagato profumatamente o addirittura per creare i vostri progetti che potranno poi fruttarvi parecchi soldi. Il futuro del web non sta arrivando ma è già qui ed è anche in continua evoluzione. Quindi ciao a tutti e benvenuti in questo video. Dato che questo mondo è completamente nuovo, ho deciso di fornirvi una guida sul come impararlo passo dopo passo. Ma prima dobbiamo capire cos'è il web 3.0 e quali differenze ha con il web 1.0 e con il web 2.0. Qui alla mia destra vi lascio tutti i capitoli di questo video che trovate anche qui sotto nella timeline così che voi possiate muovervi al meglio all'interno di questo video. Web 1.0 si riferisce al primo stadio del World Wild Web. Infatti tra il 1991 ed il 2004 abbiamo visto la nascita dei primi siti web, un insieme di pagine statiche. Sostanzialmente si creava un sito web e lo si buttava lì. Si può definire questo web 1.0 come un read only web, un web di sola lettura, con zero interazioni. Infatti non si poteva fare l'autenticazione con i login e nemmeno commentare. Quindi era una comunicazione ed uno scambio di informazioni unilaterale. Poi abbiamo il web 2.0 che si è formato circa nel 2004 e che fino ad oggi si è evoluto a livelli estremi passando dalle pagine statiche del web 1.0 ad un web creato di interazioni, connessione sociale e contenuti realizzati dagli utenti. Quindi ora gli utenti non sono più obbligati a consumare informazioni dai siti web ma possono anche loro scambiare informazioni con questi siti web. I nomi web 1.0, web 2.0 e web 3.0 non sono per forza correlati a delle tecnologie specifiche ma si riferiscono per lo più al modo nel quale il web viene utilizzato. Nel web 2.0 tutto si basa sulle connessioni sociali. Pensate infatti a quanto tempo passiamo su social media che però sono tutti di proprietà di grandi aziende come Google e Meta che sì ci forniscono tantissimi contenuti ma che in cambio ottengono il nostro tempo sulle loro piattaforme e più tempo passiamo sulle loro piattaforme più loro guadagnano. Ed ecco qui il più grande problema del web 2.0, la privacy. Infatti così tutte le informazioni sono in mano di pochissime persone. Per risolvere questo problema ci viene in aiuto il web 3.0 conosciuto anche come web decentralizzato. Quest'ultima fase di internet è costruita su un sistema di reti peer-to-peer dove ogni computer scambia informazioni con un altro computer senza passare per un ente centrale. Quindi se nel web 2.0 tutte le informazioni e tutti i dati sono posseduti da grandi corporazioni come Google, Meta, Apple ed altri nel web 3.0 le informazioni e i dati non sono in mano di nessuna persona o corporazione specifica. Sì ma quindi perché il web 3.0 è migliore? L'internet centralizzato si basa su server che possono essere buttati giù in qualsiasi momento oppure essere hackerati, mentre un internet decentralizzato si basa su una rete peer-to-peer che a sua volta si basa su una community di utenti che collegati tra di loro reggono in piedi l'internet. Ed è molto più difficile che tutti questi vengano buttati giù contemporaneamente oppure addirittura che vengano hackerati contemporaneamente rispetto ad una singola azienda. Quindi essenzialmente, e questo è molto importante, con il web 1.0 possiamo leggere i dati, con il web 2.0 possiamo leggere e scrivere dati che però sono posseduti da terzi e con il web 3.0 possiamo leggere e scrivere i dati però saremo anche i proprietari di questi dati. Fatta questa doverosa introduzione entriamo adesso nel vivo della roadmap. Per poter sviluppare applicazioni decentralizzate servirà prima ovviamente imparare a sviluppare le normali applicazioni. Perché una DAP o applicazione decentralizzata non è altro che una semplice applicazione che però si interfaccia con una blockchain leggendo uno smart contract. L'errore più comune che viene fatto è quello di iniziare a imparare come realizzare uno smart contract senza però avere prima le basi del developer 2.0, cornex.js, react.js o semplicemente javascript. Solo una volta fatto potrete passare al prossimo step. Imparare i fondamentali della blockchain. Nello specifico cos'è la blockchain, come funziona la blockchain e perché dovremo utilizzare la blockchain. Quindi possiamo dire che una blockchain non è altro che un insieme di computer connessi tra di loro in qualche modo che danno vita a quello che si chiama blockchain client. Ora mi spiego meglio. Una blockchain non è altro che una catena di blocchi, come appunto dice anche il nome. E questi blocchi sono collegati tra di loro tramite criptografia. Ogni blocco contiene l'hash del blocco precedente al quale è collegato, il timestamp ed effettivamente i dati della transazione. La tecnologia blockchain non è collegata solamente alle criptovalute. E per capire al meglio questa tecnologia dobbiamo prima imparare la creazione della blockchain e come funziona. Poi dobbiamo imparare come interagire con la blockchain, come vi faccio vedere in parte in questo video che vi lascio qui sopra. Dobbiamo inoltre capire gli strumenti che possiamo utilizzare per sviluppare sulla blockchain di Ethereum, che poi saranno gli stessi che si possono utilizzare in quasi tutte le blockchain e WM compatibili. E poi c'è da capire come creare gli smart contract, depositarli sulla blockchain e realizzare delle applicazioni decentralizzate che si colleghino a questi smart contract. Ora però dobbiamo dire che non esiste solamente la blockchain di Ethereum. Questa è sicuramente quella consigliata per iniziare, quella che ha più materiale dal quale studiare ed anche quella che ha una community più grande con la quale interfacciarsi. Per andare avanti adesso dovrete imparare gli smart contracts. Uno smart contract non è altro che un software immagazzinato all'interno della blockchain che esegue automaticamente il codice contenuto al suo interno. Uno smart contract ti permette ad esempio di inviare soldi ad un'altra persona senza però passare per un ente centrale come ad esempio una banca. Adesso però potresti pensare che alla fine uno smart contract non è altro che del semplice codice che può essere scritto anche nel web tradizionale, nel web 2.0. Quindi perché realizzare uno smart contract? La risposta è molto semplice. Nel web 2.0 le informazioni e i dati sono facilmente manipolabili, mentre gli smart contract si autoverificano, si eseguono automaticamente e sono resistenti alle manomissioni. Infatti uno smart contract non può essere modificato e questo lo rende immutabile. Quindi viene semplice pensare che possano essere utilizzati, tra le tante cose, anche per servizi bancari, assicurazioni e anche per il copyright. E adesso che avete imparato gli smart contracts dovrete imparare Solidity, il linguaggio di programmazione che vi permetterà di realizzarli per la blockchain di Ethereum e per tutte le blockchain e VM compatibili. Questo vi permetterà, almeno all'inizio, di non imparare tantissimi altri linguaggi di programmazione che potranno poi essere utilizzati sia per creare smart contract sulla blockchain di Ethereum ma anche su tutte quelle blockchain non e VM compatibili. Solidity è un linguaggio di programmazione molto recente e il creatore si è ispirato al JavaScript, al Java, al C++ e ad altri linguaggi per creare questo suo nuovo linguaggio. Il che lo rende intuitivo e molto versatile dato che prende le caratteristiche di tutti questi altri linguaggi al quale si è ispirato. Una volta imparato a scrivere uno smart contract dovrete imparare a testarlo e poi successivamente a depositarlo sulla blockchain. Questo è molto importante perché come abbiamo visto gli smart contract una volta depositati sono immutabili quindi testateli prima di depositarli effettivamente sulla blockchain. E per testarli ci sono tre librerie di test con le quali mi sono trovato meglio Ganache, Mocha e Chai. Una volta testati se tutto va bene potrete depositarli sulla blockchain e a questo scopo vi consiglio Hardet, Truffle e Infura. Una volta depositato arriviamo ad uno degli step finali. Infatti come ho detto all'inizio prima di realizzare delle applicazioni Web3 bisogna avere delle skill per la programmazione Web 2.0 perché ora dovrete creare delle DAP che non sono sotto il controllo di un'autorità ma alle quali comunque dovrete creare un'interfaccia user-friendly per agevolare gli utenti che ovviamente entreranno sulla vostra DAP. Per collegarsi ad una DAP occorre avere un portafoglio cripto come Metamask. Quindi è fondamentale imparare ad utilizzare perfettamente questi wallet perché poi sarà proprio tramite questi wallet che potrete effettivamente interfacciarvi con la blockchain. E per permettere agli utenti di collegare il proprio wallet alla vostra applicazione decentralizzata io vi consiglio di dare un occhio a Ether.js e Web3.js. Adesso che avete imparato tutto l'ultimo consiglio nonché il più importante a parer mio è che dovrete mettere in pratica quello che avete imparato e dovete mettervi a programmare, programmare e programmare. Solo in questo modo riuscirete ad affinare le vostre conoscenze e ad imparare anche cose nuove. Io spero che questo video vi possa essere utile e se siete interessati ad altri contenuti di questo mondo li trovate qui vicino a me. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!